La nascita è la storia della lingua italiana, podcast italiano di livello B1-B2. L'italiano, come il francese e lo spagnolo, deriva dal latino. Non è il latino classico di Cicerone o Giulio Cesare, ma quello parlato dal vulgus, cioè dal popolo. Per questo motivo, questo tipo di latino popolare viene chiamato anche volgare. Con il passare del tempo, il vulgare comincia ad essere usato anche nella letteratura. I primi grandi autori della letteratura italiana, cioè Dante Alighieri, Boccaccio e Petrarca, scrivono nel vulgare fiorentino, cioè nel vulgare usato a Firenze, e lo arricchiscono di parole dotte, pregiate. Grazie allo sviluppo culturale ed economico di Firenze nel corso del Medioevo e del Rinascimento, il vulgare fiorentino diventa definitivamente la lingua della letteratura anche nel resto d'Italia. Nel corso dei secoli subirà dei cambiamenti e comincerà ad assomigliare sempre di più all'italiano moderno. Quando l'Italia diventa un paese indipendente, nel 1861, il fiorentino viene scelto come lingua letteraria standard e diventa la lingua dell'istruzione nazionale. Fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'italiano standard è usato soprattutto allo scritto, per la letteratura, la stampa e la burocrazia, perché gli italiani preferiscono parlare nel loro dialetto. A partire dagli anni 50, l'italiano standard diventa anche la lingua principale della comunicazione orale e si impone come lingua nazionale. Tuttavia, come tutte le lingue, l'italiano è in continuo cambiamento. Alcuni linguisti, infatti, preferiscono parlare di italiano neo-standard quando si riferiscono all'italiano degli anni 2000. Chissà come diventerà l'italiano nei prossimi anni.